La saga del professor Layton coinvolge in tutto il mondo sette milioni e trecento milioni appassionati di incessi... Luke, credo di avere finalmente trovato colpivole. Veramente? Non mi sembra di vedere nessuno. Tra qualche momento lo capirai. Un gentiluomo deve essere minaccio sul... Un momento. Allora è questa. Certo. La sua torcia mi obbaglia. E io non sono un santo, lo avete capito tutti. Fabolista! Dimmi Luke, cosa ti ricorda questa musica? Carissimo professore, come sta? Io sto scoprendo una bambina di sette anni. Inutile descriverle il mio stupore nel sentirla scoprare. Professore, lei crede veramente nella possibile esistenza della figa da Eterna? Non so a che cosa risponderti, Luke. Signore e signori, a uno solo tra di voi verrà concesso la figa Eterna. Gli altri dovranno accettare di cedermi il loro bene più prezioso, signori, il pene. Fermi tutti! Ispettore Groski, polizia di Scotland Yard. Adesso che questo vile sgrotto è nelle mie mani non potrà più nuocervi in alcun modo. È una marionetta! Davvero stupefacente! Ascolta... Questo cazzo è per te che lo ami tanto. Urca, urca. Crow. Posso sapere dove stiamo andando? È grande cazzo. È molto cretina. Dottor Schroeder, questo reperto è un resto di Ambrosia? Certamente! Per l'uomo la figa Eterna, ieri come oggi, è sempre stata la meta più ambita. Un momento. Guardate qui. Si tratta chiaramente dello stesso stemma. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. Chifosi! Chifosi! In quanto organizzatore di questo gioco dichiaro la fine della competizione. Cazzo? Ehi, ma che cazzo significa? Il regolamento prevedeva che il vincitore avrebbe ottenuto la vita eterna! Portatemi a meglio. Ma perché proprio io? Non mi toccate! No! Fermatevi! Portatemi! Stavo aspettando proprio te, Portatemi. Scusa il ritardo. Professore, la scolla ha presa Amelia. Ah, presto. Sbrighiamoci. Lasciatemi! Non mi toccate! Lasciatemi! La fica eterna. La persona è lei. Che cosa trami ancora, descolla? Avanti, adesso canta! Presto! È solo questione di minuti! E poi quella macchinata l'esploderà! Signor Whistler. Succa! 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 Grazie a tutti.